Inserire questa priorità tra gli obiettivi del PNRR ha un'altra conseguenza che secondo me è molto importante, che è il cronoprogramma. Voi sapete che la tempistica delle risorse che si spendono con il PNRR è una tempistica molto celere e inserire questi obiettivi nel PNRR ci impone di lavorare con velocità, perché il nostro cronoprogramma sarà un cronoprogramma che prevede l'individuazione di tutti gli interventi puntuali entro il terzo trimestre del 2024, l'aggiudicazione di tutti gli appalti entro il secondo trimestre del 2025 e il completamento del 90% delle opere entro la fine del 2026. che è necessario per l'individuare le risorse per l'individu del 2025 e quindi per l'individu dell'individu del 2026, 90% del 2026 deve essere all'allocato, che è per noi per l'individu di lavorare così fasto come possibile. Non me ne vorrà se diciamo anche su questo facciamo un veloce riassunto del lavoro che il governo ha portato avanti fin qui. Con il decreto 61 noi abbiamo stanziato quasi 1 miliardo 800 milioni per la tenuta del sistema produttivo.